Ciao ragazze, benvenuti al solito appuntamento mensile dei promossi e bocciati del mese Mi scuso se lo pubblico solo adesso, però non ho avuto modo di girare questo video e quindi lo vedete i primi di settembre Inizio subito perché ho diversi prodotti da mostrarvi Inizio con i prodotti per la pura del corpo e sono promossissimi La prima è questa crema fluida per il corpo dell'aleocrema Questa qui è all'olio d'ardarna, 100% biologico L'ho acquistata come potete vedere da acqua e sapone e la trovo molto molto valida Ha una profumazione paradisiaca e lascia la pelle morbida e vellutata La consiglio soprattutto per chi ha la pelle secca come me che tende a scomarsi perché davvero nutre a fondo la pelle e ve la lascia bella morbida con una profumazione fantastica Ha 250 ml di prodotto e da una scadenza di 12 mesi Vi fate al limite il fermo immagine dell'inci per chi è interessato Sempre poi per quanto riguarda la cura del corpo e capelli Vi voglio far vedere questa crema ristrutturante per capelli fragili e sfibrati dell'erbolario Questa qui è la profumazione agli estratti di lino Allora questa crema può essere utilizzata in vari modi Potete sia utilizzarla come maschera quindi facendo un impacco da tenere in posa per 15-20 minuti per poi fare lo shampoo e utilizzare il balsamo o addirittura utilizzarla anche come balsamo al posto del balsamo Quindi può essere utilizzata in due modi Devo dire la verità è davvero molto buona Io tendo a perdere molti capelli e per i capelli secchi e sfibrati che tendono a spezzarsi è davvero fantastica Ha una delicata profumazione quindi molto molto buona Se non erro ha un costo intorno ai 12-13 euro Non mi vorrei sbagliare, vi conviene chiedere in negozio Anche perché alcune volte nei negozi erbolari c'è qualche sconto su alcuni prodotti Quindi potete vedere Poi per quanto riguarda prodotti di make up Vi faccio vedere vari prodottini Allora inizio con i promossi Perché bocciati non ce n'è manco uno Tranne un Nike Vi lo lascio per ultimo Allora promuovo questo rossettino di Debbie Che è il numero 16 Questo qui è un tester Perché ho la possibilità di acquistarli in un negozio a Torrione Clalù Clalù che li vende tipo a 2,50 euro La colorazione è questa qui Dalla luce non è delle migliori Ma è un bellissimo aranzo forte Molto molto bella E il nome non ve lo so dire Comunque è il 16 Che è un aranzo che vira al rosso Molto molto bello Dura tantissimo come rossetto E ha un bellissimo effetto glossy Sulle labbra Per una maggiore durata Perché da solo dura più di 6 ore Se lo volete insomma Volete prolungare la sua durata Vi consiglio di utilizzare una matita Io ho utilizzato quella lì della Crazy Quella lì da 1 euro Che trovate spesso in offerta da acqua e sapone arancione L'ho applicata su tutte le labbra E ci ho messo su il rossettino di Debbie E mi è durato tutta la sera Davvero fantastico E ci ho mangiato E ci ho bevuto Quindi sono rimasta sbigottita E ha un prezzo bassissimo Solitamente da acqua e sapone Se non sbaglio Sta intorno ai 4 euro Io l'ho pagato 2,50 euro Perché è un tester Si può leggere tranquillamente Anche dal packaging Ed è il 16 Il numero 16 Poi promuovo due matite Questa qui è di questa marca francese Noir Noir Ed è una matita che ho acquistato di recente Ed è questa qui Come potete vedere È un bellissimo nero Super super intenso E super resistente Perché è una matita waterproof Io l'ho utilizzata Sia all'interno della rima E questa qui che mi vedete applicata Sia come eyeliner Ed ha un'ottima resa Tra l'altro Una volta asciugata Non so se potete vedere Ma non va via Cioè Sto pigiando forte Non va via Questo che mi vedete Sono i brillantini Del swatch Dell'ombretto di Catrice Però vi assicuro È fantastica Ha un costo di 5 euro Sempre da Claloo Un negozietto di cosmetici Che c'è nel mio quartiere E mi ci sono trovata bene Ero un po' scettica Ero un po' scettica A comprarla Perché non conoscevo la marca Se qualcuno la conosce Mi lascia qualche informazione Di questo brand Zù Nei commenti Ed è ottima È una matita Longo lasting 24 ore Waterproof È un prodotto Made in Europa A 12 mesi di scadenza Ed è 1.1 grammo Di prodotto E se non sbaglio Non è testata Neanche sugli animali Quindi Mi pare di averlo letto Da qualche parte Però non mi ricordo No Comunque Se non erro E non è testata Su Sugli animali Poi Un'altra matita Molto molto bella E ha un prezzo Bassissimo È questa qui Dorata Che Vedete qui Sullo swatch Ed è Una long lasting Della cost Questa qui Vabbè È una matita Waterproof Io Per intenderci La Ve l'ho rinominata Long lasting Long lasting Perché anche lei Dura tantissimo È un bellissimo Color oro E come potete vedere Anche questa qui Una volta Asciugata Non va via Io l'utilizzo Anche sotto Per sporcare le cime Inferiori E la tampono Con un ombretto Anche se non è Non è necessario Perché non va via Scusate i capelli Ragazzi Ma fa un caldo Che si crepa È davvero fantastica L'avrò pagata Tipo intorno 2 euro e 50 Ma davvero È molto Molto valida Come matita La paragono Ne paragono A quelle lì Le essence Le matite di essence Long lasting Quelle lì Con ammina Poi Sempre per quanto riguarda Le matite Per rimanere Intima matite Però questa volta È un nì È questa matita Di Debbie Vi faccio lo swatch Perché è l'unica Che non lo swatch Non vi ho fatto lo swatch Ed è una matita Glossi Glossi Allora In estate Ed è questa qui Come potete vedere Ha questo effetto Glossi In estate Praticamente Questa matita Non si può usare Perché praticamente Ve la ritrovate sciolta 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 Ve la ritrovate sciolta Fino a qui Tipo effetto panda Bruttissimo Mentre in inverno È molto molto bella Mi dispiace Perché alla fine È un prodotto Che si può utilizzare Solo in in inverno Perché comunque Se l'andate a tamponare Con un ombretto L'effetto glossi Della matita Non c'è più Quindi è praticamente Inutile È molto scrivente Davvero molto molto valida Come prodotto Però in estate Non è molto consigliata Per questo L'ho messa nei nì Perché in questo periodo Praticamente l'ho utilizzata E mi ha fatto un pavocchio In faccia Quindi non esiste E nei nì Per questo motivo Ed è la Debbie Pencil Glossi La 0 La 9 Sempre comprata D'acqua e sapone Non mi ricordo Il prezzo Però credo Intorno ai 4-5 euro Per gli standard Insomma Di B Debbie Poi Sempre tra I promossi C'è questo ombrettino Che mi ha mandato Maras Fantastico Ed è della Catrice Made to stay È un Shadow Long lasting E praticamente Mi ha detto Mara Che è il diuppo Dell'illusor d'ombra Di Chanel Le patami Le patami Le patami Con l'oliviola Ed è questo Purtroppo La luce Non rende Una cepa Proprio Perché È pieno Zeppo Di micro glitter Colorati Bronzo Dorati Ramati È qualcosa Di fantastico È pieno Zeppo Di questi Micro glitter Colorati Davvero Molto Molto Bello Ed è Il 070 Vi ripeto Della Catrice È 5 grammi Di prodotto Quindi tantissimo E dello Straconsiglio Perché è davvero Molto molto Bello E sulla palpebra Abbinato magari O a un dorato O a un marrone Per la sera È davvero Molto molto Bello Anche questo Una volta Asciugato Non Non va via Quindi davvero Ottimi ottimi I prodotti E come ultimo Prodotto Di make up Perché poi Passiamo Ai pennelli Vi faccio vedere Questo correttore Ed è il 24 ore Perfetto Della Deborah Io ho preso La tonalità 04 Come potete vedere È un tester L'ho preso Sempre nello stesso Negozio E l'ho pagato 3 euro e 50 Il Diciamo Il correttore Con il suo packaging Veniva 6 euro Però voglio dire Il tester Era nuovo E l'ho acquistato Ed è molto Molto buono Come correttore Lo sto testando In questi giorni Però mi ha dato Subito Mi ha dato Subito Un'ottima impressione Ve ne ho voluto parlare Si asciuga subito Copre Tantissimo E Dà una bella Luminosità Al viso Non entra nelle pieghette Aderisce bene Insomma Sul viso È davvero Fantastico Poi Sempre per quanto riguarda Allora Passiamo adesso I pennelli Allora Come Primo Pennello Che vi voglio parlare È questo qui Della seta blu E sono quelli lì Nuovi La seta blu Praticamente È una marca Di Napoli Se non erro Che crea Questi pennelli Super economici Questa linea qui Ma Solitamente I prezzi Di questi pennelli Dei pennelli Di seta blu Vare intorno Ai 1-2 euro Così Questo qui L'ho pagato 5 euro Ed è Bellissimo Sembra È tipo Una Non so come si chiama Un flat bookie Mi pare Qualcosa del genere Molto molto buono Io lo sto utilizzando Come potete vedere Sporco Per sfumare Il correttore Della MAC Quando lo utilizzo Per fare Il contouring Che è quello Correttore Che vi ho mostrato Nei video scorsi Quello lì marrone Ed è ottimo Perché riesco a sfumare Bene Sia questa zona qui Che sotto Che le tempie C'è Ha una grandezza Che va bene Per questo uso Cioè L'ho utilizzato Adesso solo per questo E mi ci sto trovando Davvero bene Non perde peli È in setole sintetiche Ed ha un ottimo prezzo Secondo me Ed è fatto anche bene Come pennello Poi Per quanto riguarda I pennelli Vi voglio parlare Di questo set di pennelli Che ho avuto modo Di provare Ed è Un set Della Nashi Vi lascio Zù nell'info box Il sito internet Di questa azienda Perché Ha dei pennelli Molto validi A prezzi Convenienti Per esempio Questo set Completo Di pennelli A parte il pack Cioè la confezione Che è fatta Benissimo Si apre In questo modo Costa Se non erro 34 sterline E 50 Una roba del genere E il set È composto Da Sia Pennelli per il viso Che pennello per occhi C'è anche un set Esclusivamente Di pennelli per il viso Quindi Dovete vedere voi Quali pennelli Vi servono di più Allora Vi mostro I pennelli Molto molto bello Questo Ed è tipo Uno stripper brush Di Essence Però Non è a due fibre È fatto tipo In In setole Sempre in setole sintetiche Questo qui L'ho utilizzato Per Applicare il blush Perché come potete vedere È molto piccolino Ed è Molto molto buono Per applicare il blush Mi piacciono tantissimo Questi pennelli Perché come potete vedere La forma del manico È molto molto particolare Non lo so Sono anche Facili Insomma Da Manovrare Come si può dire Mi ci sto trovando Divinamente Poi Un altro pennello Sempre Che si può utilizzare Per Le polveri Ovvero per il blush Per la terra È quest'altro pennellino Qui Sempre piccolino Quindi Si può utilizzare Sia per il blush Che per fare Il contouring O per Applicare Magari L'illuminante Se vogliamo Metterlo Solo in questa zona Qui Comunque piccolino E ci permette Di fare Insomma Queste Di farmi Di fare Quest'uso Ragazzi Scusate Se mi inceppo Ci permette Insomma Di Utilizzarlo In questo modo Ma è Tipo Il terzo Video di fila Che registro Sto un pochettino Da fuori Comunque Questo pennellino Qua Poi abbiamo Un pennello Da fondotinta O correttore Però da fondotinta Secondo me È un pochettino Troppo piccolino E quindi Da correttore Almeno per me Lo trovo Lo utilizzerei Per il correttore Perché è piccolino Come potete vedere Va bene Per il fondotinta Cioè Per tutto il viso Tipo Ci dovete mettere I secoli Per mettervi Questo Questo Per mettere Il fondotinta Con questo pennellino Qua Poi Abbiamo Un pennello Angolato Che io Ho utilizzato Per applicare La terra Ma potete Applicare Per fare Tipo Sempre Il contouring Ma Potete Comunque Applicarci Anche Il blush Con questo Qui Angolato Come potete Vedere Sono tutti Cicciotti E morbidissimi E sono tutti Sfumati Con il bianco Il grigio Il nero Molto Molto Eleganti Li sto Davvero Adorando Poi Abbiamo Un pennellino Angolato Per Per Le liner O da Sopracciglia Come preferite Un pennellino Sottilissimo Per le liner Vi ho fatto Anche la foto Su instagram Perché davvero Questo pennellino Permette Un'applicazione Delle liner Davvero Fantastica Non pensavo Perché non mi ci trovo Con questo genere Di applicatore Qui Molto Molto Sottile Però Essendo rigido Permette davvero Una linea De liner Molto Molto Precisa Quindi Promostissimo Anche lui Da notare Sempre il manico Del pennello Molto Molto Carino Poi Abbiamo Un comunissimo Pennellino Insomma Per pettinare Il sopracciglio E poi Abbiamo I vari Pennelli C'è Quello Da sfumatura Questo Qui Che È Leggermente Più Piccolino Che Potete Utilizzarlo Sia Per sfumare Per sfumare Poi Abbiamo Un pennellino Piatto Da Ombretto A lingua di gatto Un pennellino piatto A lingua di gatto Da ombretto Uno a penna Leggermente più Cicciotto E poi Abbiamo Un altro pennellino Leggermente più piccolo Sempre a lingua di gatto Per ombretto Oppure se volete Da Per applicare L'illuminante Sotto l'arcata Soprazzigliare Comunque Può essere utilizzato Per Per vari usi Tutti Molto morbidi E davvero Di ottima Qualità Se volete Insomma Un'alternativa A I pennelli Insomma Tostosi Che si trovano In giro Questi qui Un set completo E completo Di tutto Davvero Sia per il Sia per il viso Che per gli occhi Ha 34 sterline Che sarebbe Tipo Una Trentina di euro Su via È molto Molto Conveniente Se vogliamo Paragonarli A Real Technique Che su internet Costano Tipo 25 euro Il set E comunque Non hanno Tutti Non ci sono Tutti questi Pennelli È conveniente Per di più C'è anche Questa confezione Molto Molto Bella E elegante Infatti Li conservo Qui dentro Perché è Fantastica Ed è il Luxury set Della Nashi E niente Ragazze Questo è Quanto Io vi Vi mando Un forte Bacio E ci vediamo Prestissimo Nel prossimo Video Ciao